Salve a tutti amici di Film is Now, io sono la Svet o se preferite Luciana. Il 16 marzo finalmente arriverà in Italia la terza stagione di Westworld, serie fantascientifica della HBO. Il cast di Westworld è ricchissimo con Tessa Thompson, Evan Rachel Wood, Tanny Newton e nella prima stagione c'era anche il caro Anthony Hopkins. E sappiamo tutti quanti che la trama di Westworld è tutt'altro che semplice, piena di balzi temporali, storyline che sono tutt'altro che ordinate, ma oggi vengo in vostro soccorso per riordinare le idee. Infatti questo video è praticamente un mega riassunto delle prime due stagioni e ovviamente come potete ben intuire questo video è zeppo di spoiler quindi se volete godervi da soli le prime due stagioni vi conviene andarle a guardare e evitare come la peste questo video. Ma prima di cominciare come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ogni giorno Film is Now vi offre trailer, contenuti originali e recensioni e anche recap tipo questo. Vi dico subito che durante il recap io non nasconderò la mia antipatia per Meeve e per Dolores e soprattutto non vi nasconderò che la seconda stagione non mi è piaciuta per niente. E infatti spero che nella terza risolvano alcuni problemi per me davvero grossi, per poi sicuramente no, anche perché ho notato che la seconda è stata piuttosto apprezzata dal pubblico. Quindi insomma cominciamo anche perché le cose da dire sono davvero tante. Iniziamo col dire che Westworld è un parco tematico. Parco tematico creato da Ford e Arnold, il defunto Arnold ai tempi della prima stagione. Questo parco divertimenti è indirizzato ai ricchi aristocratici che hanno voglia di sperimentare una vera e propria avventura nel selvaggio West. Ovviamente come ogni parco ci sono i figuranti, ma questa volta non si tratta di figuranti veri e propri ma di robot, di androidi per niente diversi dagli umani e con una certa coscienza. Infatti ogni android all'interno del parco ha il suo carico di ricordi, la propria storyline e hanno una parte da recitare. Quindi loro credono effettivamente di essere quel personaggio perché sono programmati così, il che li rende umani, li rende capaci di provare determinate emozioni, emozioni programmate, ma pur sempre delle emozioni. E qui i ricchi vengono a sfogarsi e a fare di tutto a questi poveri androidi alla faccia delle leggi di Asimov. Quindi insomma queste macchine subiscono i peggiori soprusi e abusi. Ma per Ford tutto ciò sembra non essere così grave. Quello che ha alcuni dubbi è Arnold. I due 35 anni prima avevano progettato questo parco, scrivendo il codice dei robot affinché loro potessero superare il test di Turing, quindi diventare sempre più umani e sviluppare una certa coscienza. Il primo robot creato, o almeno fra i primi, è proprio Dolores, interpretata da Evan Rachel Wood. La sua storyline prevede l'incontro con il coraggioso Terry, un altro android che, spoiler, ne subirà di tutti i colori. Cioè nella prima e nella seconda stagione tutte le sfighe arriveranno su Terry, povero Teddy. Nei vari flashback notiamo che fra Arnold e Dolores c'è qualcosa. Arnold sembra avere una certa ossessione nei confronti di Dolores. La studia e le loro conversazioni sono basate su un certo labirinto. Arnold durante le loro conversazioni la invita a raggiungere il centro di questo labirinto, che non si sa esattamente che cos'è, almeno all'inizio. Ma dopo un po' scopriremo effettivamente la natura di questa immagine mentale di Dolores. La fine del labirinto è praticamente il raggiungimento della propria coscienza. Arnold le dice che una volta raggiunto il centro del labirinto, lei sarà libera, riuscirà ad acquisire la piena coscienza e il pieno controllo di se stessa, proprio come gli umani. Ovviamente una volta ottenuta l'autocoscienza, Dolores insieme al caro e adorato Teddy fa una strage, uccide tutti i robot del parco, compreso il povero Arnold. Dopo questo incidente tutto viene resettato, Dolores e Teddy vengono rimessi all'ordine e tutto torna come prima. La vera azione si svolge anni dopo. In questo arco temporale entrano in scena William e Logan. Sono due ospiti del parco. Logan è molto 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 intraprendente, non si fa scrupoli a uccidere il robot, mentre William è molto molto più schivo. La loro quest all'interno del parco è salvare appunto Dolores. Riescono a salvarla e giungono a Praia e incontrano il bandito El Lazo. Costui li invita ad affrontare un'altra quest, ovvero recuperare della nitroglicerina. Nel frattempo però William si è innamorato dell'androide Dolores. A questo punto William decide di distaccarsi completamente da Logan, il quale voleva che si sposasse con sua sorella Juliet, e decide di seguire Dolores all'interno del parco. I due vengono però catturati dallo stesso Logan, che con l'aiuto di alcuni banditi li raggiunge. Logan non ha alcuna pietà per i sentimenti di William o per la stessa Dolores, lui la vede come una macchina, come un androide, e quindi decide di pugnalarla. L'androide se ne va via, confuso, e William la insegue. Inizialmente cerca di convincere Logan ad aiutarlo, ma ormai il rapporto fra i due non è più lo stesso. Si distacca completamente da lui e corre alla ricerca della sua amata. Finalmente William trova Dolores, la quale sembra non riconoscerlo, e qui si rivela finalmente la sua vera natura, ovvero quella di un androide. William ormai è sconvolto e da qui non sarà più lo stesso. Facciamo un balzo temporale di 30 anni, come se non ce ne fossero abbastanza. Rivediamo William nelle fattezze di colui che sarà poi nominato l'uomo nero, un grande azionista che ha investito pesantemente sul parco. Lui sembra interessato, anzi ossessionato, dal parco. Lui cerca ogni storyline nascosta, cerca di sviscerarne tutti i segreti, e non prova più nessun interesse per Dolores. Scopriamo che nell'arco di questi 30 anni lui si è sposato, ma sua moglie è morta per un incidente, ovvero si è suicidata. Come abbiamo detto, per Dolores lui non prova più niente, anzi la vede solo come una possibile chiave, chiave che aprirà tutti i segreti all'interno del parco. Per provare a se stesso, che è ormai un uomo senza limiti, decide di uccidere Meeve e sua figlia. Ma recuperiamo Dolores. Dolores, come tutti i membri del parco, come tutti gli androidi del parco, è ossessionata da una voce, che ci viene presentata come la voce di Arnold, ormai morto. Lei è ormai confusa, non sa riconoscere la realtà intorno a lei, non riesce a capire se quello che vede è reale oppure no. Ricordiamo che lei ha la coscienza appunto di Dolores, ha in mente la sua storyline, non sa di essere un androide, non è ancora consapevole. O meglio, non è più consapevole. E lo stesso tormento sembra tagliare suo padre, Peter, il quale dopo aver visto una foto che ritrae il mondo moderno, sembra avere un guasto. L'androide viene disattivato e Dolores viene rispedita nella sua storyline. Contemporaneamente, l'uomo in nero cattura un androide di nome Loren, lo stesso che 30 anni prima interpretava il ruolo di El Lazo. Cerca di interrogare Loren, si chiede del labirinto, ma non trova nulla. Durante il suo viaggio, William trova Armistice, che gli rivela che il suo compito è quello di uccidere un certo Wyatt, un criminale che commise un massacro quando lei era bambina. In seguito ha anche un incontro con Ford. L'uomo in nero e Teddy cadono vittima di un'imboscata creata dagli uomini di Wyatt. E Teddy ricorda che tempo prima lo aveva aiutato a compiere un massacro. A noi spettatori viene rivelato che William e l'uomo in nero sono la stessa persona. Qui William, dopo 30 anni, finalmente incontra Dolores e decide di ucciderla. La ferisce gravemente e in questo momento sopraggiunge Teddy, che rincorre la sua amata la porta sulla spiaggia dove lei muore. A questo punto tutto si rivela essere una presentazione di Ford, il creatore di Westworld. Ha presentato ai capi della Delos una semplice nuova storyline, niente di più. In tutti questi anni Ford ha finito col comprendere quello che diceva Arnold. E qui scopriamo che la voce di Arnold all'interno della testa di tutti gli androidi è proprio la sua, è quella che cerca di convincere a liberarsi, arrivare alla fine del labirinto, in modo da poter acquisire una propria coscienza, esattamente come aveva fatto Dolores anni prima. Ford a questo punto risveglia Dolores e le rivela tutta la verità. Lei e Wyatt sono la stessa persona. Era stata lei a fare il massacro, quello di cui abbiamo parlato prima. Teddy era appunto suo complice. E semplicemente quella tragedia è stata trasformata in una storyline. A questo punto Ford la invita a decidere, a decidere cosa vuole fare, se essere un androide o acquisire finalmente una propria coscienza. Alla cena per i festeggiamenti Dolores prende la sua decisione e uccide Ford, iniziando così un massacro dove William viene anche ferito. Ma pensate che sia finita qui? Assolutamente no! Anche perché parallelamente a questi eventi seguiamo gli eventi di Meeve e Bernard. La Meeve che incontriamo in questa storyline non è una madre di famiglia ma una direttrice di un bordello, la quale inizia ad avere dei ricordi un po' strani, sente che qualcosa non va in lei. Il reset dei suoi ricordi non è avvenuto nel migliore dei modi e quindi ha dei continui flash di lei uccisa. Pian piano inizia ad avere sempre più consapevolezza del mondo che la circonda e arriva a manipolare anche due tecnici, due scienziati. Lee comincia ad aumentare la sua capacità intellettiva in modo tale da poter comprendere tutti i segreti del parco. Ed è proprio in questo momento che ricorda quello che le è successo. Dopo questa modifica Meeve riesce a ricordare quello che le è successo, ovvero la sua morte per mano di William e quella di sua figlia. Si rende conto che questo trauma è ancora molto vivo dentro di sé. Infatti all'epoca Ford aveva deciso di resettarla proprio perché questo trauma non andava via. Lee ha così donato una nuova storyline. A questo punto però le capacità intellettive di Meeve sono talmente forti da riuscire a controllare tutti gli androidi del parco. Riesce a manipolare anche Hector e Armistice e diventa inarrestabile. E a questo punto c'è la ribellione degli androidi. Meeve a questo punto scopre anche che sua figlia si trova nel S-World. Decide quindi di non andarsene dal parco ma di restare per trovarla. Passiamo a Bernard Love. Bernard Love è uno strettissimo collaboratore di Ford che ha una relazione con un membro dello staff, Teresa. Una collaboratrice, Elise, gli racconta che qualcuno sta utilizzando i dati degli androidi al di fuori del parco. Si tratta proprio di Teresa che ha deciso di trasferire tutte le informazioni del parco al consiglio, il quale si rivela un po' stile nei confronti di Ford. Le sorprese ovviamente non finiscono qui perché Bernard fa una scoperta sensazionale, ovvero che Arnold ha programmato degli androidi distaccati dal mondo di Westworld. E tra questi androidi che vivono al di fuori del parco in una cellula distaccata c'è anche la riproduzione della famiglia di Ford, la quale ha anche una riproduzione di Ford bambino. E a questo punto si scopre che lo stesso Bernard è un robot, un robot con le fattezze di Arnold. A questo punto Bernard uccide Teresa ma la sua memoria viene cancellata dallo stesso Ford. Meeve lo informa nuovamente della sua natura, ovvero della natura da robot e a questo punto Bernard arriva ad affrontare finalmente Ford dopo un'epopea di puntate. Purtroppo Ford spinge Bernard a suicidarsi ma sarà Meeve a riattivarlo. Il tutto si conclude con loro che assistono al massacro creato da Dolores. Bene e qui finisce la prima stagione, adesso che io ho cercato di raccontarvela mi rendo conto di quanto sia complicata, ma iniziamo subito con la seconda, quella che mi ha fatto pensare perché sta accadendo questo. Però magari a voi è piaciuta, anzi fatecelo sapere appunto nei commenti qui sotto. E anche questa stagione è divisa in 3-4 linee temporali più diversi flashback. L'arco narrativo principale ha come protagonista Dolores che non fa altro che trasformare Teddy in un killer continuando il suo massacro, la sua ribellione. E Meeve che cerca disperatamente sua figlia. Quest'ultima infatti attraversa Shogun World, ovvero un parco a tema giappone feudale, per cercare la bambina ma non con grande successo. In tutto ciò il caro William è tornato, il nostro uomo in nero. Dolores e Teddy corrono per tutto il parco uccidendo tutto ciò che gli capita davanti. E contemporaneamente Bernard e Charlotte, interpretata da Tessa Thompson, non fanno altro che nascondersi dalla furia dell'androide. A questo punto Dolores convince alcuni membri del consiglio di amministrazione, membri che lei ha catturato, a portarla da degli ingegneri per attuare un suo piano. Poco dopo Bernard viene catturato da Dolores che lo porta da Elise. A questo punto William incontra sua figlia, o meglio quello che crede essere sua figlia. E poi c'è un breve incontro fra Dolores e Meeve, la quale le dice che quello che sta facendo non porterà a nulla di buono. Dolores quindi sta e calmina. La seconda storyline riguarda il risveglio di Bernard sulla spiaggia. In compagnia di Strand e del suo team, i quali sono arrivati 11 giorni dopo la strage per cercare di capire che cosa sta succedendo. Strand inizialmente dice che è arrivato per salvare il visitatore, ma in realtà sappiamo tutti quanti che lui vuole soltanto recuperare la memoria di Abernathy. L'obiettivo di Bernard in questa storyline è quello di scoprire che cosa è successo nella linea temporale 1, che ha portato quindi al massacro. E si renderà conto che all'interno dei morti del massacro c'è anche il povero Teddy. Altro spostamento di storyline. Questa volta siamo alla terza storyline. Ci state capendo qualcosa? Spero proprio di sì, perché la seconda stagione è molto molto più confusa della prima. Durante la prima puntata della seconda stagione assistiamo a Arnold, ovvero Bernard, durante una delle sue mille conversazioni con Dolores. Sembra essere una delle normali conversazioni dove Bernard cerca di analizzare Dolores, ma in realtà si scopre che Dolores sta analizzando Bernard in qualità di host, in qualità di androide. Quindi le due linee temporali appena spiegate servono a Dolores a testare la fedeltà, ovvero la perfetta replica della personalità di Bernard nell'host, nell'androide che Dolores ha voluto per sé. Questo per lei è uno dei passi che la porterà alla conquista del genere umano. Megalomania portami via Dolores. E complichiamo ulteriormente le cose con dei flashback, dei flashback disseminati qui e là durante la seconda stagione. Qui vediamo una prima versione di Dolores, che non è ancora entrata nel parco di Westworld, alla quale viene mostrato anche parte del mondo del reale. E qui ritorna anche il giovane William, che mostra a James Delos il parco, il parco prima dell'apertura. Qui viene rivelato che la vera fortuna del parco non sta nel divertimento dei visitatori, ma nel data mining delle loro personalità. Queste informazioni per loro sono una ricchezza e inoltre aprono la possibilità ai ricchi di poter vivere in un corpo sintetico e quindi non morire mai. Quindi trasferire la personalità da un umano a un androide. Durante la festa in onore del pensionamento di James Delos vediamo Dolores che suona il piano e nuovamente la famiglia di William, ovvero composta da Julie, con lei che poi si suiciderà più avanti, e sua figlia Emily di 6 anni. Tutti i test di fedeltà falliti dall'host di James Delos vengono interrotti dallo stesso William. Il quale decide di non distruggere il prototipo che verrà poi trovato da Bernard Elysian qui avanti nel corso della seconda stagione. Quindi ci sono ancora tantissime storyline da chiudere, davvero tante. E qui si conclude la seconda stagione di Westworld. Voi avete fatto un po' di chiarezza? Io personalmente ho fatto ancora un po' di fatica, continuo a dire che la seconda stagione è un po' più debole, ci bisogna di un po' di sospensione dell'incredulità. Però staremo a vedere con la terza. Fateci sapere qui sotto se avete le idee chiare, se attendete anche voi la terza stagione di Westworld, e in generale che cosa ne pensate della serie. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, ormai lo sapete, sapete benissimo come funziona. Vi abbraccio, tanti saluti dalla Svet e da Filmisnow. Grazie a tutti.